Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Si ritiene abitualmente che un documentario debba avere per oggetto la realtà così com'è. Si può ipotizzare invece un documentario, io dico un documentario, non un film di finzione, che abbia invece per oggetto non la realtà effettiva con i suoi limiti e le sue bassezze, ma una realtà che corrisponda alle nostre speranze, o almeno alle speranze di chi realizza quel documentario. Forse soltanto in un caso, se l'autore trova nella realtà un frammento in cui gli paia che i suoi sogni si rispecchino. E' questo il caso, io credo, che è capitato a Silvano Agosti quando ha deciso di realizzare il documentario che si intitola Il fascino dell'impossibile. Il frammento, il fenomeno che egli prende in esame, è una casa di cura per disabili chiamata Loasi, che sorge in Sicilia, precisamente a Troina. Ora, cosa rende questo luogo tanto speciale, almeno agli occhi di Agosti, tanto che lo descrive attraverso le sue immagini con il senso di incantamento di chi vede realizzarsi un sogno? Il fatto che i pazienti disabili, un tempo, ma forse anche oggi, in Sicilia, ma forse anche altrove, nascosti come vergogne dalle loro famiglie, qui siano trattati, curati, con competenza ed affetto, che intorno a loro, per loro, sia stata creata una specie di città composta di teatri, giardini, piscine, palestre, a cui oggi chi ne ha bisogno può accedere gratuitamente perché è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Che la bellezza dei corridoi, dei saloni, arredati con materiali di recupero, non sia quella impersonale delle cliniche, anche di lusso, ma che abbia, per così dire, l'originalità e il senso creativo che si conviene a un ambiente fatto davvero a misura di individui. Il rapimento, ma anche la profonda convinzione con cui Agosti descrive l'ambiente, determina anche il limite del suo film, che è quello, per così dire, della propaganda, dell'eccesso di positività delle cose mostrate, che vanno dalla dedizione dei volontari che hanno creato l'oasi nel corso di quasi 50 anni, alla felicità dei bambini disabili che in quell'ambiente si sentono rifiorire. Ma questo vago senso di irrealità è bilanciato da un personaggio vero, concreto e straordinario. Si tratta di Luigi Ferlauto, un prete, oggi ultra novantenne, autore di un'autobiografia dal titolo provocatorio Sono un prete che crede in Dio, che è il fondatore, il presidente e, insomma, l'anima dell'oasi di Troina. Il suo aspetto può far pensare a certe piante secolari, che hanno visto trascorrere tutto il bene e tutto il male del mondo e che dunque il mondo possono descriverlo nella sua nuda verità, senza attenuazioni ipocrite, diciamo spassionatamente. Le poche parole che Don Ferlauto pronuncia nel film sono autentiche perle di saggezza. Si avrebbe voglia di ascoltarlo più a lungo. Spiega, fra l'altro, che l'oasi di Troina nasce dall'ideale di un mondo dove il forte e il debole, chi ha salute e chi ne ha meno, collaborino tra loro. Un mondo, insomma, che non sia basato sulla sopraffazione e la violenza, ma un mondo d'amore. Il fascino dell'impossibile è un film del tutto indipendente, nato al di fuori del sistema industriale della produzione e della distribuzione. A Roma è proiettato al cinema che dirige Silvano Agosti, l'Azzurro Scipioni. Mi auguro che possa avere la maggiore diffusione che merita. Dunque, il fascino dell'impossibile di Silvano Agosti. Un saluto da Gianfranco Cercone. Da Gianfranco